tra BOOOOOO Papino di merda.. a via di.. NO ! NO ! NO !!! tu ti ho al mio raggio OTIM FANNA RUFA NO ! Mi spalle anche .. NOOO ! TRA!! Tu ti ho al mio raggio Tu fosore di... UEEE TRA BUONGGIORNO Ehi Chi è ? LA LA CI FIT e no il mio nome è un po' è un po' dislessico come ti posso dire? cavalletta cavalletta perchè cavalletta? e perchè io salto guarda come una cavalletta? è giusto lei che vuole da me? io sono una hacker sono una hacker ho il raggio in fil il raggio infinito è impossibile avere il raggio infinito vuoi vedere che solo su questo account ho 10.000 di raggio ebbè fra 10.000 di raggio tutti quanti lo possono avere 10.000 di raggio o non è che sei speciale se hai con 10.000 di raggio capisci? non sei nessuno bravo che c'è? che vuoi? allora lo vuoi vedere? eh fammi vedere non ci credi? io ci credo che lo vuoi scambiare 10.000 di raggio? comunque è tanto raggio e certo fra che mi offri tanto io ce l'ha infinito io c'ho tutto tutto vedi un pochino tengo ti posso dare 10 armi modate ah? ma così mamma mia che scambiare e si fra eh sono gemello di tua mamma è un naso brutto eh ma sono un gemello di tua mamma addirittura eh si fra addirittura vedi mo ti porto una ragazzina degli scambi bravo semi truffi io ti stupro la madonna è un naso scambio degli scambi eh sono e sono molto ricco quindi posso permettere tutto allora ascolto ascolto ah una cortesia assoltarmi bene no 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 là o zitto dai zitto 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 oscittura ascolta zitto 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 azito zitto 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 aziende è una gettaria tutte le ziste zenta tutto 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 tuto ma e tra bene tutte le armi fra le armi una volta si avrai quanti video poloni mi servono un attimo solo fra perdonami perdonami te lo posso essere un po' tranquillo tra stare una cosa tu non puoi vedere una cosa segreta non puoi vedere no niente cioè tranquilli allora io lierei e infatti me ne tengo per me i segreti fra tranquillo tranquillo i segreti da gay da gay a tuo padre quanto sei mamma mia io ho brutto io ho brutto mamma mia quanto sei ma fra tocca le finestre mi stuscia ti dò pure per me allora fra addirittura fra ma si allora il mio inventario però è formato da mezza arma ma va bene comunque fra che fa il serio va il serio va il serio e vado a incazzare eh ho capì allora il mio inventario vai che ecco va non pora di niente e di nessuno niente e nessuna addirittura e addirittura fra di niente e di nessuno allora c'è sempre una pre-olta fra alla volta di cosa spiegati meglio eh niente fra ecco qua queste su tutte le mie tutte quante e la scelata lascio fuori permessi permessi no pre-permessi non ti vedo perchè tanto non ti truffo non ti truffo stai tranquillo stai tranquillo stai fermessi ipermessi 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 calma uovisi no senza permessi del punto e cazzo alzano alaia adottando su un'area per me senale stai sfidando vabbè se io ti sto sfidando provo a dare a saltare esaltare 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 aspetta aspetta da me due secondi ok vai ti piace il mio alberino ma tra voi troppare voi troppare eh eh faccio sapere ma tu non puoi apri sto vedendo sto vedendo senti qua il microfono è un portarocchetto che ci devo guardare eh cerca di non farlo diventare tarocchetto però ah da mio padre la presto mamma mia che vergogna vai esca 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 mamma mia che lava di m***a eh si fra eh eh di famiglia che ci avete il culo sfondato eh si infatti fra come già l'ho detto prima sono un gemello di tua mamma ah addirittura si puoi chiamarmi zio puoi chiamarmi zio anzi chiamami zio sono pur sempre tuo zio no? vai dirà perfetto e io si ritroppo il mio inventario sono un bambino di merda troppa addirittura bambino di merda va bene fra va bene eh certo fra questa meraviglia questa meraviglia dito questa meraviglia va bene va bene metti te la polis dove vuoi addirittura va devi troppare la lama eh si la lama come cazzo si chiama sarà prima le armi prima le armi prima le armi la lama spettrale troppala eccola qua bravo adesso fra adesso fra devi andare all'angolo e devi troppare tutto il tuo raggio tutto quanto tutto vai io salto bene i permessi fra no fra come tu hai già detto i permessi no perché no mi spelle fra no salto 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 sei tranquillo sei tranquillo cavalletta sei tranquillo voglio tutto e 10k di raccio come detto tu che 10k di raccio qua ne ho solo 10k perchè è il mio massimo inventario fra se no sei un hacker fallito sei un hacker fallito ecco perchè sei un hacker fallito ecco perchè sei un hacker fallito allora se quando sei un hacker fallimento però zitto secondo me calcoli 10k di raggio dovrebbero sentire 50 stack giusto oh cavalletta oh 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 mi senti che cazzo vuoi oh ho detto ho detto ho detto 10k di raggio sono 50 stack giusto e chi avrà sei un genio della matematica hai visto fra tengo 8 e mezzo in matematica mamma mia faccio abuso faccio abuso hai troppato tutto che fai in seconda elementare no fra secondo asilo eh magari ah capisco capisco hai capito hai capisciuto no e fra io non ho paura di niente e di nessuno ah ancora io fra sto tranquillo fra chiudi qua sopra fra chiudi qua sopra ah no eh non riprendo tutto aspetta e fra poi ci piove dentro fra allora fra vieni qua che apro vieni qua che apro vieni qua che apro non è finito fra ah non è finito scusami scusami e certo fra da noi sono le cose di di qualità ma ah ha droppato tutto è tutto no adesso salta 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 ah non devo dammi permessi dammi permessi apro dammi permessi salta fra vieni qua vieni qua vieni qua aspetta no no dammi permessi salta aspetta un attimo aspetta aspetta un attimo salta riprendo tutto no salta salta vieni qua vieni qua vieni qua metodo qua chiudi qua sopra ah no scusatemi non ho messo a post eh poi ci piove dentro l'ho già detto, non mi permessi vieni qua, vieni qua ci sono aspetta, aspetta, aspetta qua, qua, qua fra, poi ci piove dentro, come facciamo? fra, no, si diventa un po' di luce eh, capisco, capisco, dai aspetta, 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 aspetta fra, hai un po' di luce qua, sotto il muro, sotto il muro qua, qua, più a destra più a destra, ecco qua no, fra, no, no no, niente, niente che cazzo potevi fare, fra? no, niente, 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 non è successo niente fra, se non mi dai permessi ora che c'è cosa no, vieni avanti, vieni avanti bambino di merda, bimbo di merda zitto, zitto bimbo di merda ma che cazzo no, fra bambino di merda, bambino di merda no, no tutto il mio raggio ma di quanta roba no no, le spalle ha anche no no tutto il mio raggio truffatore di merda bambino di merda 17 secondi e me spende aspetta, 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 aspetta cazzo, non c'entra la roba bambino di merda nove secondi, otto, sei, no oh, bambino di merda cavalletta ehm, ehm, è successo qualche errore tecnico apri, bambino di merda, dammi il mio raggio ehm, non ce l'ho più il raggio, fra? ehm, cavalletta cavalletta, cavalletta, cazzo, 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 cazzo. vuol dire questo quello che tengo alimentare la mia di merda apri ti sto avendo venire fra vedi e venire fra vedi che c'è che sto rimaste dell'armi, io che non c'entrava tutto da misera raggia no, fra il raggio è mio adesso eh cho non mi fare incazzare sono nacher, bene ok, carlantan jageri ma con la sua suosta un po' di stocco va beh fra sono rimasti 404 era non ho potuto riprendere vabbè buuuuum cavoletta fa un c***o buuuuum che c'è? che c'è? che c'è? che c'è? è successo qualcosa? è successo qualcosa? è successo qualcosa? timilo dimmi dove abiti che vengo fino alla chiamazza di botte ah questo è messo male anche sai dove abiti? eh si fra mi sono scordato che do fa? sono bravo solo a troffare che do fa? che fallito che fallito intanto però il diavolo lo si truffa il diavolo lo si truffa buuuuum che bambino di me hai ragione ragione sono bambino sono bambino chiate che 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 schifo che tipo no bravo dappi che se non mi dai raggio si accarrerò la fra un c***o vabbè fra fra senti vaffanculo ciao ciao ci vediamo ciao ciao cavoletta come già già nooooh poiché quindi vedete il video iscrivetevi lasciate il like codicatore xmd forte a texpress in descrizione insieme alla mia canta di sara andate a seguirmi bella ragazzi ciao 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 ciao